In questa video-lezione noi parleremo dei persiani e tratteremo la storia dei persiani prima dello scontro con i greci. E cominciamo. La nostra storia comincia innanzitutto nel collocare questo popolo nel luogo da dove è cominciata la loro storia, cioè nell'altopiano iranico. Qui c'erano due popolazioni, quelle dei Medi e quelle dei persiani, che avevano tanti elementi in comune nell'organizzazione della società. Metà del VII secolo i persiani finiscono sotto il dominio dei Medi, anche se di fatto i persiani vengono la loro struttura con anche una dinastia, quella che Medi, di cui parleremo tra poco, che si imporrà sulle altre famiglie persiane. Tant'è vero che nel 550 a.C. Ciro, che poi sarà ricordato appunto come Ciro il Grande, Ciro I, si ribella da Stiage, che è appunto il re dei Medi, e riesce a sottomettere a loro volta i Medi, a fondere questi due popoli, appunto i Medi e i persiani, e a stabilire il dominio della dinastia persiana Chemenide, su quella dei Medi. La storia dell'impero persiano è una storia che caratterizzerà il secolo VI, V e parte del secolo IV. La capitale verrà spostata da Ecbatana a Pesargade e quello che possiamo dire come tratto caratteristico in questa introduzione che stiamo facendo dell'impero persiano è che l'impero persiano sarà caratterizzato da una politica di conquiste, cioè conquisteranno tanti, tanti territori, da Ciro I il Grande fino anche ai suoi discendenti Cambise e Dario. Questi re avranno appunto come caratteristica peculiare quella di assoggettare nuovi territori fino a espandere l'impero in grandi proporzioni. Cominciamo quindi appunto ad analizzare le spedizioni di Ciro I il Grande che è appunto vissuto, comandato tra il 559 e il 529 a.C. La spedizione più interessante è quella fatta contro la Lidia. La Lidia era una regione molto molto ricca e soprattutto era una regione appunto nell'altopiano anatolico nella penisola anatolica l'attuale appunto Turchia. Era una regione particolarmente ricca. Lo scontro avverrà appunto tra Ciro I il Grande e il re dei Lidi Creso che godeva fama di essere un uomo ricchissimo perché la Lidia era una regione estremamente ricca, soprattutto di oro. Lo scontro avverrà nella città di Sardi e nel 546 Ciro riuscì a sconfiggere Creso e quindi a soggettare di fatto la Lidia. Questo portò appunto il dominio dei Persani a includere anche l'Anatolia, l'attuale Turchia e addirittura a spingersi fino alle città costiere che erano greche come appunto Smirne, come Mileto, quindi il primo contatto con il popolo dei Greci. La Ciro il Grande poi si orientò verso l'Oriente, verso quindi la parte noi oggi diremo asiatica, indiana, del suo impero e estese il dominio persiano fino al fiume Indo. Poi scese in Mesopotamia e qui conquistò Babilonia nel 539 e stava combattendo contro una popolazione che i Greci chiamavano Sciti, del nord, quando appunto nel 529 morì. Probabilmente Ciro stava pensando a una spedizione contro l'Egitto, spedizione che fu portata a termine dal figlio Cambise e nel 525 infatti Cambise attaccò e di fatto insomma sgominò l'esercito egiziano. Entra a Menfia la capitale, occupa la capitale e quindi di fatto conquista l'Egitto e lo aggiunge all'impero persiano. In effetti prima di partire per questa spedizione Cambise fa uccidere il fratello Smerdi che era stato accusato di aver congiurato o di comunque preparare una congiura contro Cambise stesso e purtroppo questa situazione, cioè questo clima di congiure sarà quello che caratterizzerà anche altri sovrani dell'impero persiano. E lo stesso Cambise nel 522 fu ucciso appunto dalla mano di alcuni congiurati. Alla morte di Cambise ci fu uno scontro tra una classe sacerdotale, quella dei Maggi, e dall'altra parte Dario, il legittimo, diciamo così, successore perché figlio di Cambise, a Cambise stesso. Uno scontro fu comunque limitato da un punto di vista temporale. Dario opponeva ai Maggi non soltanto la legittimità del proprio potere ma anche il fatto che fosse seguace di una religione, quella appunto di Zaratustra. ma su questo torneremo alla fine di questa video-lezione. Fatto sta che Dario diventa re dei persiani. La vita di Dario sarà una vita estremamente lunga perché di fatto governerà dal 522 al 486 a.C. a Dario si attribuisce una importante, notevole riforma amministrativa dell'impero che vedremo tra pochissimo. La riforma prevedeva una fortissima centralizzazione del potere nelle mani appunto del re ma come i suoi predecessori anche Dario non esitò a ampliare i confini del proprio impero conquistando la Prace, la Macedonia e per la seconda volta di fatto entrando in contatto con il popolo greco. Prima di addentrarci nella riforma amministrativa dobbiamo dare delle caratteristiche generali ma importanti circa l'impero persiano. L'impero persiano è un impero multietnico e tale non poteva essere ovviamente non poteva che essere in quanto abbiamo visto il compito specifico dei re persiani era quello di assoggettare popolazioni che avevano ovviamente una lingua diversa una religione diversa quindi usanze, costumi completamente differenti verso queste popolazioni i re persiani hanno sempre mantenuto una grande tolleranza di fatto hanno portato avanti una importante politica di pacificazione anche riuscendo a far passare un'idea che fossero loro cioè i persiani i legittimi successori dei loro regnanti e quindi che la storia di questi popoli i medi ma anche gli egiziani di fatto continuasse naturalmente con il re dei re o il gran re come appunto veniva chiamato il re dei persiani. Detto questo, fatta questa premessa vediamo un pochettino in che cosa consisteva la grande riforma amministrativa voluta da Dario Dario divise l'immenso territorio, l'impero persiano in venti regioni, in venti governatorati, in venti satrapie appunto a capo di ogni satrapia c'era un governatore, un satrapo appunto che era il difensore del re e affiancato a questo satrapo c'era anche un funzionario militare che aveva compiti specificatamente militari ma andiamo a vedere quali sono i compiti del satrapo innanzitutto il satrapo era nominato direttamente del re era un aristocratico oppure apparteneva alla fin media del re o addirittura alla sua corte talvolta ma in casi rari poteva anche appartenere a nobiltà locale ma era sicuramente una nobiltà schierata completamente, apertamente a favore dei persiani e il compito specifico era quello di riscuotere i tributi quindi le imposte che poi dovevano ovviamente andare al re quindi di fatto erano poi spedite nelle varie capitali questo sistema doveva essere preciso tanto che il satrapo era affiancato da un segretario che era quello che di fatto stabiliva i rapporti tra il satrapo e il re dei re quindi era il legame che univa queste due figure e il satrapo era costantemente sottoposto alle visie degli ispettori che potevano piombare senza essere annunciati in quella provincia e controllare il lavoro del satrapo erano un po' gli occhi e le orecchie di questo re dei re e andiamo a vedere appunto la figura del re dei persiani chiamato re dei re perché ovviamente era il re più importante tra i re che poi non hanno avuto successione pensiamo al foro energiziano pensiamo al re dei babilonesi tutti cioè popoli che sono stati di fatto assoggettati definito anche il gran re per questa ragione era circondato da una corte ricchissima caratterizzata da un numero notevolissimo di persone in cui si trovavano sia funzionari statali che consiglieri veri e propri che però provenivano da ogni parte dell'impero quindi il re dei re amava circondarsi di questi funzionari ma non erano funzionari specificatamente o solo e soltanto persiani ma appartenevano anche a tutti i popoli che il re dei re aveva assoggettato quattro erano le capitali dell'impero Susa la città di Ciro Ecbatana l'ex capitale dei Medi Pesar Gade la capitale appunto e sostituì Ecbatana e Persepoli come la chiamarono appunto i greci la quarta importante capitale la necessità di quattro capitali ovviamente è dettata al fatto che l'impero persiano fosse molto molto vasto quindi le capitali erano un po' il punto di attrazione e di controllo del territorio stesso Affiancava il re, lo proteggeva era la sua guardia personale la famosa guardia del re erano diecimila persone chiamate di immortali perché di fatto per un immortale che moriva in un campo di battaglia o per altre circostanze immediatamente questo immortale veniva sostituito da un altro per cui il numero diecimila non scendeva mai L'esercito persiano è caratterizzato da un equipaggiamento particolarmente interessante se nella mano destra portavano la spada nella sinistra utilizzavano la scura che serviva per arpionare e colpire lo scudo degli avversari e l'esercito persiano dovrebbe essere stato il primo esercito a utilizzare la corazza in combattimento per proteggere appunto i fanti Un impero così vasto non poteva che basarsi su uno straordinario sistema viario la rete stradale era davvero capillare partiva dalle capitali in particolare da Susa e raggiungeva ogni luogo ogni posto lontano dell'impero c'erano tantissime stazioni di sossa per le quali ci si poteva riposare oppure cambiare i cavalli i messaggeri del re addirittura riuscivano a percorrere in tempi estremamente brevi circa una settimana tutto l'impero almeno da Susa fino alla Mesopotamia le carrozze ci mettevano un po' più di tempo ma comunque sicuramente era l'attraversamento di un impero vastissimo e questa rete stradale serviva perché appunto l'impero potesse essere controllato meglio sia dalle truppe che si devono spostare sia anche per i traffici economici di cui parleremo appunto tra pochissimo commerci appunto teniamo in considerazione che la rete commerciale era fondamentale perché all'interno dell'impero persiano c'erano le città costiere città che si affacciavano sul Mediterraneo città che quindi commerciavano con Fenici città greche abbiamo visto Smirne che di fatto entravano in contatto praticamente con i persiani stessi quotidianamente ma dall'altra parte verso Oriente c'erano anche le città che si affacciavano sull'oceano indiano che quindi potevano ovviamente essere centri commerciali importanti che avevano bisogno di una rete stradale straordinaria per far arrivare le mercanzie in ogni parte dell'impero così come importanti erano le regioni agricole dell'Asia minore dell'Egitto pensiamo al grano la Mesopotamia e altrettanto importanti erano i distretti pastorali negli altopiani asiatici ecco questa era la rete commerciale dell'impero l'impero persiano e come vedete appunto una rete commerciale importante per un impero veramente dalle proporzioni vastissime la cosa interessante è che gli scambi non avvenivano in natura ma attraverso i Darici quindi la moneta da Dario quindi per questo si chiama questa moneta Darici per quanto riguarda la regione ci avviamo alla conclusione di questa video lezione dopo una prima fase in cui i persiani non facevano altro che idolatrare le forze naturali quindi il sole per esempio a questa prima fase segue una seconda fase in cui il centro di fatto della religione sarà Zaratustra anche perché era questo culto spalleggiato anche dal re dei re quindi sponsorizzato diremo noi oggi anche dal gran re persiano soffermiamoci proprio a conclusione di questa video lezione velocemente su Zaratustra dovrebbe essere un profeta leggendario vissuto tra l'ottavo e il settimo secolo anticristo che diciamo era il profeta appunto del re della divinità Aura Mazda che è il principio del bene cioè il dio del bene questa divinità affermava che l'uomo dovesse avere questi tre principi regolativi nella sua vita cioè la generosità la ricerca della verità e la giustizia questa divinità Mazda si scontrava con Ayriman che era il dio del male possiamo dire cioè il principio del male forse meglio in questo scontro colossale tra principio del bene e principio del male la conclusione di questo scontro era appunto quello che sarebbe stata la fine del mondo fine del mondo che però prevedeva in secondo Zaratus comunque il trionfo del bene sul male quindi la sconfitta di Ayriman e la vittoria di fatto di Mazda di Zaratus di Zaratus